tanto non gioca mai non c'è lo stesso per me per me il lucchino c'è ma si mette offline però noi non l'abbiamo installato di nuovo e poi speriamo che gli arrivano i messaggi no perché quest'altro è un altro con la connessione alla claudio anche in questi giorni non potrà fare niente su dbd e crash va su redhead e crash va su dallas e crash ieri sera ho giocato no lunedì lunedì ho giocato ho giocato ho tirato giù il l'abbiamo appeso l'ho tirato giù mi cura mentre lo curo cade per terra il seraiato ma c'è minchia che mani mani pesanti mamma mia che roba hai capito le mani pesanti hai capito per aprire gta lo stai zitta non rompere i miei vieni su gta non rompere i coglioni non rompere i coglioni di abono che cazzo ti gridi mi sono un culo di me puttana la madonna bastarda ecco infatti non gli arrivano i messaggi dio chiamalo esistono le chiamate da casa mia c'è ma c'è casa tua ci sono tra la sua ci sono i messaggi dirette ma c'è che non posso parlare se parla claudio 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 ho detto claudio come era quello da zona arancione in zona rossa non hai per me neanche tu mi ha chiamato è arrivato al capo stamattina che sono sei la posso ammazzare ho guardato il storico che ha aperto gta stai calmo oddio perchè sei andato l'eco è piaciuta zona rossa fatta una pipa no no è zona merda no aspetta scusa sì zona rossa c'è arriva eh zona rossa fatta una pipa ma perchè zona rossa fatta una pipa? mi hai capito l'hai visto? perchè se vai su facebook e vai sul prodotto zona rossa si può scopare zona rossa si può scopare in zona rossa fate una pipa ma perchè? ma perchè rossa fate una pipa? no e perchè non puoi andare la prossima parte scusa ma se la pina viene da me si ma ne lo so scopare aspetta te lo metto sul gruppo guarda va a vedere guarda te lo metti sul gruppo poi dice che l'ha perso guarda va eccolo due milioni due milioni due milioni due milioni la mia storia del culo col cane la vista 45 persone cosa? ho dato un migliore fatemi una pipa meno male che c'è la mia ragazza che fa quello che viene ha capito adesso? si vado a capire sono arancione se può scopare anzi zona gialla zona arancione se può scopare ma in zona e zona rossa fatevena per il pandesio ma perchè ha mandato 5 milioni 5 milioni poco dirò ma c'è 97 milioni e mezzo no aspetta quanti ne ho? si no 92 milioni e mezzo rimane a ruota 80 e qualcosa per chi mi invito in sessione? ma 27 cristiani siamo no no mi invito in sessione orco no 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 cosa succede? no 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 ma come mai livello 71 vai claudio va a vincere la macchina al casino forza vai vai corri sono talmente yellato che c'è la ruota c'è stato scritto vieni istrutto dagli alieni io sono talmente sfigato che giro la ruota mi si stacca il perno e mi cade sul piede no 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 tu sei totalmente così sfigato che se tu giri la ruota e ti esce scritto la macchina esplosa a gol e dopo te la devi fare di nuovo ha vinto la macchina peccato quella era ma il cazzo è monopoli ho uno cile che era di sfigione e poi il cazzo ve lo finisce quanto è bello che io in sessione carico in due secondi no ma c'è tanto troppo che bello no che cazzo è successo ma dato qualcosa come è che la facciamo sfigare non è capito non è vero ma io mi ha scritto scusa e aspetta anche mi ha dato un messaggio caro membro nonostante lavori al diamond ti assicuriamo poco rumore tanto quali lavori stanno facendo questo ha capito ma cosa stanno mettendo il pugilato si chiama magali radio perderebbe contro di me già perderebbe stai calma è cattivo provate a vedere una cosa ma avete fatto perché i legali no no diventa l'infessione ma chi che si è messo in passiva devo andare a vincere le mie gli arpi e poi questo poi la macchina bravo nessuno te l'ha chiesto fa vincere ieri e poi adesso vado a vincere gli arpi e vinco la macchina chi è la sezione è io perché quella con gli amici non è stai calmo ha invitato sito invitavo tu ha invitato in una sessione c'è la prova proprio con il cuore con le rotte grosse come si chiama ma che gira tra un po' io oddio al minuto lo zaba ma non c'è già questo ma non mi ha fatto vincere i soldi dopo non so più guidare pensavo ci fosse qualcosa di più bella di macchina invece la tradizione sicuro che vuole vincere sta macchina come ora adesso quello che vince questa vada mi scommetto c'è una macchina di merda no allora manca a girare no a girare a contrarre la ferma di me mamma è bello che io non vinco manco una macchina di merda forza tiglio di venta una ma adesso ma adesso vincerò una maglietta oltre a dire con la macchina non ho mangiato la macchina vado si fosse rimaniti a ripeto in giro la vendo non puoi ti dà ti davvero noi ho venduto a riprendere i soldi avendo l'omento si ma tra i soldi perché tu le modi anche modificata tra i soldi delle modifiche quando è claudio sto passiva insomma è molto che non dirigida da quando ti sono citi per il suo petto tanto qua non ti posso fare niente non è come sarebbe migliorato minchia su red sto la cattura non so che cosa il riso però che si trova i capelli spettinati gli occhi neri si chiama zaba galleggia sull'acqua e va molto piano no lo voglio lezioni gira rodo dottor mike ma macchino ma donna macchia brutti 50.000 dollari anch'io arriva siamo rossi di via alle poi non ultima volta ho visto bruce giocarci cerchiamo di uccidere un tizio dentro il negozio di vestiti e quello gli sparavano i missili addosso modo la macchina macchina che c'era anche io per l'anno dicevo a sparargli con la moto ma se potesse che su red dei giocatori ti salutano e non tiri e non ti cagano il cazzo su red dead redemption 2 ti salutano non ti fanno niente ti vedono ti sciottano ma si è ma sta cosa è ma strabello e compralo con stancazzo quanto costa io vedo non mi ricordo quanto non costa niente quello di prima due cazzate aspetta mi sa che mi sa che su warstock e poi che io vedo no non è su warstock costa un milione e 800 mila ma è costa tantissimo guardalo qua guardalo qua ma l'anis ce l'ho ma l'anis qual è quella di la skyline è 70 e a verde non lo so mi sa di non che tu non ce l'avevi ma chi è questo ordine è il suo cazzo ah sei tu cazzo da che l'ho messa ma dove stanno facendo i lavori io non ho mica capito dice che stanno a fare i lavori ma io non li vedo scrivo voi no quella chiave veniva quando quando squareggia no quando l'intraverso nella patata giusto tutti giusto ma come si fanno a legare con le stanze le mie no no ma parruccio ma con le stanze puoi prendere la mano prova hai finito i vestiti da just my catani col cappello ma non è gratuito usami un attimo ma gra grai tutto dai legge fanno giochi e giochi russo tu quelle grame canipuzzo eeeh scrive adorio ma come hai fatto le foto che si è andata giapponese la nana bionda era quella che mangiava quindi tu ma chi è questa ma chi è questa 3 euro? ho capito ma il gioco lo pachi questo e questo il gioco c'è tua va va ah io un po' io te lo incazzo è tanto l'avete vedo che modo ma potrei fare 5 mila euro 5 mila euro di bolletta chiusa le magie allora salendo i max dicevo quando hai fatto le foto delle sushi eh per la bambina bionda quindi hai evitato Nando? ancora no eh? la bambina bionda che ha mangiato praticamente tutto anche il cinese dove dentro il no ancora devo invitare ah 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 va buono però speri si stai calmo tanto puoi entrare dentro la sala se vuoi si si quella sarebbe la fila di mi sorella la fila la fila la fila quello che ho visto praticamente il bestemio conto di te hai messo le foto maledetto dopo tre giorni mette le foto di sorella buttacci ma mamma io praticamente ho visto il cinese fa dica fa fare un cinese con la tassa di soia ah Max ma da te i cinesi sono aperti? si si da me è tutto chiuso no da me è tutto chiuso no da me è tutto chiuso no gli ristoranti sono aperti ma sono sport no da me è tutto chiuso pure i ristoranti è di picchio ti ho sculacciato un pochettino ti va male? io ho Mohamed che è aperto ma si ma Mohamed non è non è il cinese no però ma chi è quello dietro con la macchina? faccio quello che voglio va bene va bene perchè c'è ma perchè c'è quando ho affianato io ho visto la faccia andare sul volante però è il paio ha fatto l'asporto l'asporto cinese e giapponese che è rimasto oh oh è partito eh sì, no anch'io non posso eh no, che è la massima che cosa? ma che cazzo ho? guardate come si sta sgobbando questo un cazzo è questo un cazzo è questo cazzo a miero ah ci tu che fa me scappa chi scappa a cuore a cuore ammazzarla a cuore anzi sei ce lo faccio un po' se c'è qualche elenco di partita c'è un problema tamponato? arrivo cosa che ho fatto qua? aspetta, puoi spegnere il motore è che la mascherina va bene Max, ma se c'è una gara guarda là quella che piace a te è quella lunga lunga o ci sono due ma la vuoi fare lo stesso? quella è una cosa l'azione è più lunga meglio è le mie sono lunghe però volevo mettere anche tipo qualcosa con il fuoristrada ci sono gare i calcolati o non piacciono questa qua la tolgo la dove c'è il bank arena che l'altra volta quattro dio c'è la caldo che mi sembrava in turco metti quello che cazzo le pare abbastanza inizia c'è un dead match solo è il quadro malini forbici eppure tu sai dove però non ti vestiti di bianco cosa ti si vede apposto 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 compagno a solito 12 13 quindi non è mancante perché mi ha restato tutto veneno resto esiste ciò presi max parato dove sei ma perché c'è qualcuno che fa oh my god e poi scappa perché sta like come un pazzo ma non mi ricordo qual è quella di strappazzami tutta strafandami a spacciami tutta mi ricordo voglio ne metto uno e sì c'è cosa di sentire i dettagli mi ricordo manco questo io metto da una spazion tutta l'ho messa tempesta di sabbia domani che non so quali cazzo ma si lo metto a cazzo guarda colpito io la macchina qua è cadena è sfondato tutto ecco è penale adesso non mi porto il cazzo non sono ma che cazzo ora è penale ormai è diventata una cosa vedi vada 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 attenzione guarda come si spinge certo che macchina leggera quella c'è a moscava renta dall'altra parte ma però ma prendo il camion tricace a scavalcato nella che non puoi scavalcare guarda ma chi non può scavalcare e questo che cazzo vuole questo ma ti becchio guarda guarda scappa adesso scappa guarda guarda si sparano ma che cosa vuole da me ma mi inseguono guarda di qua tokyo shift oddio madonna che sgommate manco manco don toretto le può fare va in chiesa lui guarda tanto che non giocavo senza un cavallo tra le mani cazzo quindi qui io sono portato a portata macchina come stava quella x va bene nooo ma come stai messi qui è scappato va va grazie non arriva la macchina siamo soltanto noi cinque si ma non c'è oggi ma c'è anche lui ma non c'è oggi ma non c'è manu non c'è oggi è arrivato mi vabbè le gare eh adesso si ma se viene anche manu a giocare io faccio farti molto volentieri ma manu è bello bello manu ho detto ho detto questo mamma e oggi non c'è puff è entrato un bagno nel paccio ma che cazzo è io ti li che le pensi ne avrei capito quindi sui gta? si si ho già l'elenco pronto c'è anche l'elenco con scritto claude bestemmia ok aspetto eh me lo so se metti gare normale ma come cosa c'entro io mo? è da tre giorni che sta bestemmia per la linea ma che c'entra c'entra la linea come c'entra dai come zompi? nooo ma sti ma hanno aggiunto delle personalizzazioni ma come? adesso la dominus gtx al motore a vista col cofano in carbonio macchina testa che era un po' pure avendo sparato nasce da con la parola c'entra è un strato non ho visto il 3 boom 2 milioni non so ma io so che hanno messo le nuove 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 comunque no non spacchiamoci le macchine se no poi quando dobbiamo applicare già l'encio delle macchine magari paghi vai da benni non spacchiamoci le macchine il primo che tagliano addosso poi ho capito ma io ti spacco la macchina ma mica la faccio saltare in aria nooo no vai su no quello lì è claudio su no neanche su red gli faccio in realtà il cavallo ah no la tua volta si è successo no no minchia claudio dici quando ti ho preso a pugni in mezzo alla palude e ti sei messo ti sei messo la gelatina sui capelli puoi metterli a posto vabbè scusa sull'arica reale non posso la metto sull'arica reale dovrei riprendere anch'io e giocare a red ah si è bello è bello se ti ci metti è bello tipo claudio una volta abbia segnato tanta volte perchè incontriamo un giocatore e lo shottavano e io l'incontro non mi fanno niente si capisce vabbè penso che si romperà ho fatto di ronando prende fuoco qua si vede fuoco ma io non la più queste cazzo le cose si adesso adesso vabbè allora dov'è chiede l'inco partite è già qui è già qui ma quindi che faccia devi fare che devi faremo ma dove hai già qui dai ma guarda lì dove cazzo è figa oh cazzo ma quindi faccio partire o dobbiamo fare ma non è forse ah ok ma io quando arrivo io mi stavo un anno mi stavo unendo la partita di max come entro e si sta unando eh si aspettiamo una aspettiamo un attimo si avete sempre me tra le labbra non si amice perché è troppo bello preparatevi a morire ogni curva una 70% ma dove è i gian oh e chi lo la pazza non è con noi si 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 ah 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 assolutamente perché mi mi sono messo qua aiuto e chi lo ECHILO AHAHAHA ho già fatto ah io giro alstando la macchina ma mi è pigliata da 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 sta piu da 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 TOKYO SHIT! NO QUANDO CHI TOKYO! HA PRESO! ME PARCHEGGIO BENE! TOKYO SHIT! Ma ti marcheggiando bene? ODDIO SANTO! ECCOLO! PICCHIAMOCI! OH! Eh niente l'ho ucciso Ma cosa l'hai fatto a ammazzare? Ho detto ci passo ci passo è sceso dalla macchina L'ho preso in pieno M'hanno sentato dentro o no? Non ancora Vabbè Minchia se ce l'aveva anche Dead Porchè oddio le bestemmie qua sopra Ma Cosa ha detto? Ha detto che Giso gli ha fatto passare la voglia di giocare a GTA Ma se non ho mai comprato GTA Non si trova neanche quel cazzo che ha detto Ah Dead No! Dead c'è la grado su PS3 Dead? Sì! Dead? Sì! Dead! Ebbè Giso! Ho fatto solo un legare Solo le gare Dopo un periodo che poi alla fine metteva sempre un deadmatch Alla fine no? Poi li ha tolti perché ai ragazzi quelli nuovi non piacevano i deadmatch Quindi faceva solo gare No No Mi mette pausa Allora io ho preso un'altra macchina da Benny l'ho fatto e c'è Ma ecco a te Lo dico Ho preso la Spectre Sì bello Ma la Spectre c'era già Una cifra Poi comunque ci sono se non ho entrato Eh sì infatti ho già fatto movi invito dentro di questo Oddio che è? Oddio Sembrava una scimmia di Epic Escape 2 Quando le vai a catturare Ah Giulia cos'è che dicevi dei calabresi che parlano come delle scimmie? Ah sì Giulia Io li ho detto l'altra volta Non avete ancora niente a trovare Eh adesso? Aspetta un attimo Tutti della sessione attuale Stai agitare Stai calmo Ma che ti fa agitare Gianluca? Orca droga Che è successo? Gli ho carico Mi ha fatto drizzare il cazzo Vedi è dietro Oh no no Addirittura Perchè? Gli ho fatto la mossa a team velocità Gli ho fatto la mossa a team velocità Ma che è spostato durante per l'ambiente? Ma che è scareggiato Ah che Ora si capisce tutto Madonna Stai rotto il culo però così Eh Perchè 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 Abbattando Non so Non lo so Non so che macchina Vengono Prendo una macchina Così Io prendo Se io prendo a cazzo Un gioco Ho preso con la nuova Non so dove andrà messa E io Carmelina La chiamerei Io ho preso lenti Io ho preso Io ho preso la La GT Pro Già in porco dio Quella di La Italy GTB Davvero siamo volati Eh si non mi ricordo Non mi ricordo più i nomi Da tanto non ci gioco a GTA Cazzo ma chi è questa? Ah la Non mi ricordo più La usavo sempre Che cazzo è volato? Chi è che è volato dietro? Oh dio Che ne so? Mi sono montato a sbazzo a Giulia io Guarda Oh Eh 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 E poi E anche qua Non si riesce a frenare Oh cavolo Oh dio Che pavola Che pavola Che pavola Che pavola C'è già Che pavola Che pavola Tutti gli didanti Della zona Oh 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 Ah Oh Oh non so a botto ma non è che siano in questo tipo di paio della luce che in mezzo io canaglia di dio chi è quel monaco che sporta i pali si si girà si girà di qua come vengo a vedere qua ah non sto registrando nostra gestione dopo questa gara la regina e poi ci sono di nuovo claudio io io parlo per te ma parlo per quello che ti è dietro davanti la pompa di benzina adesso non da prendere no no ma gli scelto il cieco in qualche dio dietro sto facendo le tromaccia che esplosione si raccoglie c'è un cazzo di tic ogni volta e gli occhi non si capisce frena 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 no c'è fuori ma come la f***a grande max no che è che la tua dritta la fanno nel mare a e è per me e per me non è lunga non è non è bunga bunga ma credo del primo secondo che due giri al secondo giro non c'è giulia che ci schianta tutti da non mi ricordo manco che macchine la usavo sempre non mi ricordo più no no cioè tipo è bella come macchina però non c'è non ha tenuto come se incastrato mi sono passi a occhi chiusi attenzione ma se non tiravo dritta come la moglie ma perché voluto a trovare al contrario è perché si intersecano le strade si intrecciano ecchilo ecchilo claudio so io dietro questo tutto di nuovo ma che cazzo è successo ciao 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 cazzo è giallo esplode Poi è esploso anche quello di fianco, si capisce perché? E' esploso pure quello di fianco ma non capisco il perché Dio santo So volato Che che vuoi? Eh ho preso un sesso e so volato Ho fatto la curva troppo stretta e so volato So volato fuori Ho vinto con una macchina di merda Che è successo Madonna Ho schivata Ho vinto con una macchina di merda E quando mi impegno non vinco Ho schivata io la bruserei Ma non è che neanche di quel sono andata contro Lo sono sfiorata ed esplosa Ma non la prendo io Che volo ha fatto Ma quel sasso l'ho preso io In curve ho detto la faccio stretta Pum Ho so volato con questo sasso Ecco Ma a me questo gioco qua mi importa se tanto gioca con gli amici e bar Ma va 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 è meravigliato Dice non mi impegno e vinco Ma porco Dice non mi impegno